Eccoci arrivati a una nuova puntata di By The Rumors Sell The News, questa settimana notizie riguardanti prevalentemente il re delle criptovalute, ossia Bitcoin. Vediamo come sta andando, vediamo se abbiamo trovato il bottom e quindi siamo pronti per una risalita. Lo scopriamo insieme dopo la sigla. Benvenuto, benvenuto nel canale del Marchese del Cripto dove si fa solo pane al pane e vino al vino. Voglio ricordarti che tutto quello che vedi in questi video non sono consigli finanziari ma sono solo opinioni personali. Se ti piace avere informazioni sulle criptovalute e quindi poter guadagnare soldi con le criptovalute ti invito a registrarti al canale, iscriverti e attivare la campanella così non ti perderai nessuna news o nessun evento importante che potrebbe riguardare le tue finanze. Detto questo, adesso andiamo subito a vedere il grafico grazie al nostro partner BingX, ex BingBong. Grazie a questo splendido exchange puoi acquistare criptovaluta, puoi acquistare dei derivati, puoi fare del copy trade, ossia copiare professionisti in modo molto semplice e puoi fare anche del trading con il bot del tutto in modo automatizzato. Sotto in descrizione il referra link per avere tutti questi vantaggi e alcuni bonus di benvenuto. Bene, andiamo a vedere al momento del video dove ci troviamo. In questo momento siamo a 46.900 dollari e poco più. Vediamo che come al solito in viola sono aree di resistenza e di supporto a seconda dei casi. In questo momento sembrerebbe che Bitcoin sia una moneta noiosa, sia una criptovaluta noiosa, perché sta prevalentemente lateralizzando da diverso tempo. Venivamo da un top di 68.000 dollari, abbiamo avuto alcune forti discese insomma che hanno fatto sì che Bitcoin allo stato odierno si assestasse intorno ai 46.000-47.000 dollari. Solitamente quando veniamo da queste forti discese c'è sempre un periodo di lateralizzazione, naturalmente non è la Bibbia ma solitamente avviene questo. Per uscire da questo periodo di lateralizzazione c'è bisogno di una grossa spinta, infatti solitamente al termine di questo periodo di lateralizzazione c'è una grossa spinta, un impulso o al rialzo o al ribasso che fa naturalmente uscire il prezzo. Il massimo per tutti noi sarebbe che il Bitcoin riuscisse a riguadagnare zona 54.000 dollari in modo tale che potrebbe così in questo modo provare una ripartenza, ritornare in zona pienamente bullish, ma naturalmente ci sono diverse resistenze da dover superare come vediamo oltre naturalmente alle medie mobili, quindi c'è bisogno di un forte impulso. Oggi è il primo lunedì dell'anno per fare trading, trading professionale, quindi questo cosa significa? Significa che sono scadute finalmente le option, non ci sono più option di mezzo che hanno fatto sì che probabilmente è uno dei dei motivi, fra i tanti, che ha fatto sì che il prezzo di Bitcoin scendesse, quindi adesso siamo naturalmente liberi da questi vincoli, quindi niente ci può fermare ad una risalita. Naturalmente non c'è la certezza, ma andiamo a vedere adesso un'analisi per la quale sembrerebbe che Bitcoin abbia toccato il fondo, un'analisi diversa dal solito. Ma prima di passare a questo andiamo a vedere la settimana delle criptovalute, vediamo che Bitcoin ha perso un 7,5%, Ethereum un 6%, BNB 3,5%, Solana 12%, Cardano 12%, XRP 8%, Luna 6,50%, che vista insomma la settimana ha tenuto molto bene, così come Polkadot, AVAX solo un 4%, tutte le altre sono in rosso, tranne Algorand che comunque sia ha guadagnato un 2.34%, e la nostra Cosmos, detta più volte, in questo momento ha guadagnato un più 21,60%, quindi sembrerebbe insomma essere stata la settimana di Cosmos del token Atom. Andiamo a vedere le principali notizie, ossia che l'ash rate di Bitcoin ha toccato nuovi massimi, l'ash rate è la potenza computazionale di calcolo che serve per risolvere gli enigmi matematici per convalidare le transazioni sulla blockchain di Bitcoin. In parole povere, più è alto questo dato, più la blockchain di Bitcoin è sicura, e a quanto pare abbiamo superato brillantemente il ban della Cina e siamo ripartiti per avere i nuovi all-time high, quindi l'ash rate di Bitcoin continua a salire, questa è un'ottima notizia, e come abbiamo visto la settimana scorsa in un video che vi ho fatto vedere, i miner non hanno nessuna intenzione di vendere i propri Bitcoin. Anche questa è un'ottima notizia bullish, e veniamo adesso alla notizia per la quale Bitcoin sembrerebbe aver toccato il bottom, ossia il fondo temporaneo. Questa notizia ci arriva direttamente dall'analista Benjamin Cowen, Benjamin Cowen è anche un canale YouTube con il quale ha 678 mila follower, e questo che ci fa vedere è questo grafico, non so se si vede, ingrandiamo un attimino, che è il grafico di Bitcoin unito al grafico dello standard and poor 500, l'SP500, quindi questo cosa significa? Secondo lui, quindi secondo questa analisi, secondo questo grafico, sembrerebbe che abbiamo trovato il bottom, siamo ai stessi livelli di settembre del 2021, quindi questo ci dà una visione diversa rispetto a quella che siamo abituati a vedere, è molto interessante a mio modo di vedere, quindi significa che probabilmente se così fosse Bitcoin potrebbe ripartire e ripartire alla grande, benché in questo momento i dati sembrano essere più bearish rispetto ai dati bullish, ma sappiamo l'imprevedibilità di Bitcoin, mentre molti dati spingono per avere Bitcoin al ribasso, questo grafico invece ci mostra che potremmo aver toccato il bottom, il fondo, e potrebbe ripartire Bitcoin. Naturalmente, come detto, questi non sono consigli finanziari e questa è un'analisi fatta da Cowen, naturalmente come tutte le analisi non sono sicure al 100%, perché sono appunto analisi probabilistiche, ma in modo di vedere è un'interpretazione differente dal solito, validissima alternativa e visione diversa da quelle che siamo abituati a vedere. Molto interessante, speriamo che Cowen abbia ragione. Andiamo adesso a quest'altra notizia, ossia che il candidato alle presidenziali in South Korea accetterà Bitcoin e criptovalute per finanziare la propria campagna elettorale. Il candidato in questione è Li Jian Miang, spero di averlo pronunciato bene, e praticamente darà in cambio a chi contribuirà donando Bitcoin o criptovaluta, darà in cambio un NFT come ricevuta. Non è tanto la notizia che lui accetterà Bitcoin e criptovalute, anche perché volendole accetto anch'io, ma è semplicemente il discorso che essendo diciamo anche uno dei candidati tra altre cose che si trova in vantaggio, potrebbe in questo caso abbracciare le criptovalute proprio anche per la Sud Corea. Questo significherebbe che anche altri paesi si stanno avvicinando alle criptovalute, ogni settimana leggiamo una differente. Quindi sono infermabili. Stiamo arrivando ad un punto che le criptovalute stanno entrando prepotentemente nelle nostre vite, ma non è più stanno entrando, sono entrate nella nostra vita. Quindi qualora anche in questo caso Li Jian Miang dovesse vincere, probabilmente potrebbe anche in questo caso magari utilizzare il Bitcoin o altre criptovalute per magari renderle a decorso legale, è solamente un'ipotesi, ma ad ogni modo introdurle prepotentemente anche in Sud Corea. In base ai dati del primo gennaio questo candidato si trova in vantaggio al primo posto in queste elezioni e attualmente ha un vantaggio di 4.6 punti percentuali rispetto al proprio antagonista. Stiamo adesso invece all'ultima notizia di questa settimana che riguarda Aave, il protocollo DeFi. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Aave, il team di Aave, sta realizzando un wallet mobile. Questa è un'ottima notizia soprattutto perché avvicina diverse persone al mondo della DeFi, benché magari per molti di noi che hanno studiato, che stanno diciamo in questo settore, che seguono assiduamente questo settore, ormai probabilmente utilizzare la DeFi è diventata una cosa relativamente semplice, ma dobbiamo ricordarci che per la maggior parte delle persone non è assolutamente così. La fondazione di Aave ha già una licenza in UK come strumento di elettronico, come moneta elettronica. Quindi questa è un'ottima notizia per gli appassionati di criptovalute e per la DeFi e soprattutto anche per i meno esperti. Ti ricordo comunque sia che Aave si trova dietro Ethereum, ma è possibile utilizzarlo anche con Avalance e Polygon. Quindi è un strumento di lending e borrow davvero eccezionale. Vediamo se dovessi riuscire a realizzare questo wallet e quindi avvicinare più persone in modo semplice alla DeFi quello che potrebbe accadere. A fine video ci troviamo a 47.200 dollari, ha un pochino recuperato Bitcoin, quindi speriamo che l'idea di Cowen, che l'analisi di Cowen abbia ragione. Per quanto riguarda invece l'onchain nulla da segnalare, non ci sono stati grandissimi movimenti. Detto questo, se il video ti è piaciuto lasciami un like. Ci vediamo al prossimo. Ciao dal Marchese del Cripto.